Presentata questa mattina all'interno del Parque archeologico di Bosco Littorio, la mostra Ulisse in Sicilia e i luoghi del mito, organizzata dalla regione siciliana. Il percorso espositivo, allestito dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, aprirà i battenti venerdì 22 luglio alle 18 e sarà visitabile fino al 10 ottobre. La mostra racconta il passaggio dell'eroe greco in Sicilia in otto sezioni tematiche, con circa 80 reperti provenienti da musei regionali, nazionali ed esteri. Opera centrale della mostra, naturalmente, la nave di Gela, databile tra il VI e il V secolo a.C., rinvenuta nei fondali antistanti la costa gelese che per la prima volta viene ricomposta e esposta al pubblico in Sicilia. Il presidente della regione Nello Musumeci questa mattina ha stilato la priorità di una città che riparte dalla cultura e dall'arte. Gela ha tutte le carte in regola per diventare una tappa importante nel patrimonio archeologico dell'isola. Questa è la città dove Eschilo decise di venire ad abitare e a morire. Questa è una città che ha tutto quello che serve per cambiare la sua fisionomia e il suo modello di cultura. La mostra è soltanto l'apertura di una nuova fase. Subito dopo c'è il museo, finalmente, delle navi antiche, c'è la riqualificazione del museo archeologico, c'è il richiamo del parco archeologico, tutte iniziative che il governo ha voluto realizzare in questi cinque anni e poi c'è l'iniziativa che la città di Gela, con i suoi operatori, con la gente viva e attiva, può promuovere perché questa città, assieme a una industrializzazione compatibile, possa anche seguire l'obiettivo di un'economia turistica alimentata dal segmento culturale. Le industrie e cultura possono convivere qui a Gela? Sì, se l'industria è compatibile, se l'industria è sostenibile, se l'industria non è pesante. Gli errori del passato debbono servirci non a rinnegare quello che è stato fatto, ma a condannare gli errori, le scelte assolutamente inopportune, a correggerle per guardare avanti con maggiore ottimismo. Insieme a Musumeci in città c'erano il sindaco Lucio Greco, l'assessore regionale Alberto Samonà, la sovrintendente Daniela Vullo e il direttore del parco archeologico Luigi Gattuso. La mostra non sarà un semplice evento, secondo l'assessore Samonà, ma un punto di partenza per il rilancio di Gela e del turismo archeologico siciliano. Direi si cambia rotta, usando un termine appropriato. E sulla scia del viaggio di Ulisse la rotta deve essere quella della riscoperta di una Sicilia che punta sui beni culturali, punta sulla sua storia e ritrova una consapevolezza di ciò che siamo attraverso, perché no, anche una mostra che ha al centro Ulisse come elemento mitico, ma nel cuore. La nave arcaica di Gela ritrovata proprio qui davanti, che è il centro di questa esposizione che raccoglie più di 80 reperti, alcuni provenienti da importanti musei internazionali, come i due che provengono dalla città di Atene, grazie ai rapporti che intratteniamo costantemente col governo greco. Il senso di questa mostra è scopriamola noi siciliani, facciamola scoprire ai nostri amici, facciamola scoprire a tante persone che verranno in Sicilia e che potranno ammirare finalmente il cuore della nostra storia.